Pare che le fan di Alex Gadea, l'attore che interpreta l'affascinante figlio di Donna Francisca, facciano bene a mettersi l'animo in pace, non ci saranno risurrezioni improbabili, né ritorni inaspettati. Non vedremo più il bell'attore vestire i panni di Tristan, ma in un'intervista settimanale di più, Alex Gadea, che dopo tre anni ha lasciato il segreto, ha detto di aver voluto cambiare e fare altre cose, pur riconoscendo che questa soap opera, oltre a dargli il successo, lo ha fatto crescere umanamente e professionalmente. Alex Gadea ha girato una nuova serie televisiva, intitolata Sei Sorelle, titolo originale Seiser Manas, che attualmente va in onda sul canale pubblico spagnolo, la 1, concorrente d'Antena 3, che alla stessa ora trasmette il segreto. È probabile che questa nuova serie venga acquistata da Mediaset, e in Italia non verrà perciò contrapposta la soap che l'ha lanciato.